Ciao, io sono Marco Antonelli e sono insieme a mia nonna un influencer di TikTok toscano. Sto facendo questo video per chiedervi di proteggere anche voi, i vostri nonni e i vostri genitori, da questo virus che sta girando in Italia e nel mondo. In che modo possiamo proteggerli? Possiamo non stare in grandi gruppi, non partecipare ad eventi e soprattutto dire no alla movida. So che è molto difficile, però tutti insieme ce la possiamo fare. Contiamo su di voi, un saluto da Marco e nonna Anna. Ciao! Ciao!